ciao amici buongiorno e benvenuti in una nuova serie chiamata a spasso col quinta no non è vero scherzo andremo a spasso solo in questo periodo dell'anno ok solo oggi faremo due passi insieme perché faremo due passi insieme ovviamente perché maggio è il periodo della riproduzione del bus è il periodo della frega e quindi dobbiamo stare attenti ad alcuni piccoli particolari per non andarli a disturbare e per salvaguardare la nostra passione oggi quindi andremo a spasso con il quinta siamo circa a metà maggio e quindi è ovvio che la riproduzione del bus è nel pieno del suo svolgimento ovviamente vi ricordo di andare a vedere il mio video dedicato alla frega per capire tutti i dettagli e tutte le specifiche per questo momento molto delicato del bus ovviamente in questo video non potrò andare a ripetere tutto perché c'è già un video fatto e quindi guardate quello per un discorso più completo vediamo il motivo per cui oggi vi voglio portare a spasso con il quinta vi voglio portare a spasso perché in molti mi chiedete come riconoscere il basso in frega come riconoscere quando ha finito come riconoscere quando dove perché quindi oggi facciamo un piccolo giro d'arriva e guardiamo insieme qual è l'atteggiamento del basso in questo periodo diciamo che siamo un po' avanti con la stagione quindi molto probabilmente non troveremo più pesci sul nido cioè appoggiati lì ma vedremo molti pesci magari che proteggono già i piccoli o alcuni piccoli che sono nati siamo un po' verso la fine della frega e questo è un momento molto delicato e molto importante dove molti di noi magari possono avere confusione dire ma avranno finito potrò andare a pescare non potrò andare a pescare che danni posso fare quindi insieme andiamo a fare una bella passeggiata prima cosa appena arrivato ho visto intanto che è nata moltissima erba questo è molto positivo per tutti gli spot l'erba è letteralmente vita per il bass fishing e lì piccoli piccoli ci sono un paio di pescetti lunghi una spanna probabilmente i pesci dell'anno scorso che sono sospesi in mezzo a queste erbette e a guardare bene effettivamente non sono due ma sono ben cinque e poi c'è troppo piccolo quindi questo significa che la temperatura dell'acqua è sicuramente schizzata sopra i 20 gradi o intorno ai 20 gradi che è quella temperatura dove il bass di tutte le dimensioni inizia a muoversi e a spostarsi quindi tutti i bass iniziano a muoversi nello specchio d'acqua vediamo di fare la nostra bella passeggiatina sulla riva cosa va da guardare quando appunto cerco i bass in frega o comunque se il bass ha terminato la sua riproduzione vado a vedere nel sottoriva guardo nel sottoriva se riesco a vedere qualche pesce che o è fermo immobile in un punto ben preciso oppure inizio a vedere le schiuse dei primi bass che si sono nati e guardiamo se il maschio è ancora sotto in protezione dopo pochi passi lentamente girando con circospezione intorno alla sponda ho trovato già una schiusa di piccoli bass come potete vedere spero che è riuscito a vederlo bene c'è una schiusa di bassetti che si stanno muovendo molto lentamente e poco sotto di loro eccolo qua il maschio che li sta proteggendo guardate com'è molto agitato molto attivo viene addirittura sotto le cover e tutti i piccoli bassetti che lo stanno seguendo quindi loro sanno esattamente che è il loro protettore lui viene addirittura qua vicino alla sponda a cercare di capire chi sono io che sto facendo un video guardatelo ed è qua in protezione sulla sua bella palla di bass ogni volta che lui si sposta tutti i piccoli bassettini lo seguono questo è un tipico appunto atteggiamento che il maschio sta proteggendo i piccoli comunque è ancora nell'area di protezione dei piccoli bass come vedete si ferma controlla è molto nervoso cerca sempre di proteggere e torna indietro e si va a riposizionare sotto la zona appunto dove i suoi piccoli sono nati e dove lui deve proteggere adesso ovviamente un po' spaventato se ne va però vedete che poi tornerà lentamente perché è il suo compito come vedete fa dei giri molto lunghi setaccia la zona torna indietro nella zona dove deve stare ovvio che adesso ci sono io che sono un po' ingombrante per lui quindi non si avvicinaria però questo è già un ottimo segnale che i bass hanno terminato la frega guardate di qua che belli prima cosa che ho visto immediatamente un maschio a protezione dei suoi piccoli quindi questo significa che la schiusa è terminata significa che il maschio ha protetto i piccoli ha protetto le uova fino alla completa schiusa una volta fatto questo i piccoli sono nati e il nostro maschietto passa la sua giornata a proteggerli fino a che diventano in una certa misura e nel momento in cui diventano in una certa misura poi li abbandonerà e semplicemente li lascerà la loro vita questo è un segnale importante che mi ha dato la natura e l'acqua oggi mi ha detto che molto probabilmente la riproduzione sta finendo manca ancora qualche giorno ma non dobbiamo abbassare la guardia perché questi pesci qua che stanno proteggendo nel momento in cui noi magari lo catturiamo perché lui come avete visto è molto nervoso molto agitato e tende a cacciare tutto quello che entra nel suo territorio per proteggere i suoi piccoli una volta catturato lui lascerà sguarniti i nostri piccoli e quindi la nostra frega potrebbe andare completamente persa se invece noi aspettiamo ancora un po' che i piccoli diventano un pochino più grandi molto probabilmente questi piccoli che diventeranno un pochino più grandi saranno più meno vulnerabili e quindi riusciremo a salvare più piccoli bus per il futuro eccoci qua ho cambiato cava ho cambiato lago per andare a vedere cosa succede anche nella ghia di acento ovviamente visto che ci sono 4 o 5 cavi in questo posto voglio vedere come cambiano l'atteggiamento da un posto all'altro qua vedo un maschio in protezione di pesci però più piccoli che dall'altra parte dall'altra parte mi sembravano pesci più grandi i piccoli pesciolini hanno una dimensione più ampia quindi molto probabilmente là siamo più vicini alla frega mentre qua pare che si siano schiusi veramente da poco tempo quindi qua sicuramente avremo bisogno di qualche tempo in più per aspettare e di ritornare e aspettare e ritornare alla nostra attività di pesca per disturbare il meno possibile il nostro macchio che sta proteggendo guardate com'è agitato com'è carico com'è sempre con gli occhi aperti come ha la sua nuvoletta dietro che lo segue continuamente perché sa che è in protezione e sa che lui è colui che lo aiuterà molto a sopravvivere per le prossime settimane fino a che non avranno una certa dimensione quindi bravo il nostro maschietto bravo bravo guardatevi che belli che sono che si muovono nelle sottoriva riparati da appunto dall'erba che in vicina c'è un po' d'erba quindi si mettono in questa posizione e su questo nido non ho visto nessun maschio a protezione molto probabilmente qua la frega essendo iniziata prima il pesce ha lasciato i piccoli un po' prima come vedete le dimensioni di questi bass sono sicuramente più grandi degli altri hanno questa misura un pochino più grande vedete come sono belli neri tutti in branco insieme e hanno una dimensione un pochino più importante quindi molto probabilmente il bass li ha già abbandonati guardate che bella schiusa che c'è in questa area veramente bellissima tanti piccoli pesci intorno all'ombra e intorno alle cover ovviamente guardate che belli come sono di dimensioni più importanti e anche qua non c'è nessun maschio sotto a protezione quindi questo è un altro segnale molto importante tra l'altro questa è una schiusa veramente grande raramente ho visto schiuse di queste dimensioni veramente enorme guardate che grande che è guardate quanto è grande questa schiusa veramente bellissima tanti pesci che proseguono anche lungo la sponda nessun maschio a protezione quindi pesci ormai che sono quasi autosufficienti stanno ancora in branco tutti insieme per proteggersi per difendersi a vicenda però in linea generale sono pesci che molto presto saranno autosufficienti bene mi sposto lentamente alla ricerca di nuovi pesci ogni tanto in questo periodo dell'anno anzi spesso tira molto vento quindi è ovvio che vedrete le nostre palle di bass che girano intorno al fiume o al lago che sia perché il vento visto che sono molto leggeri questi piccoli bass tendono ad essere spostati molto rapidamente da un posto all'altro tutto normale assolutamente normale anche perché c'è il maschio sempre a vigilare in qualsiasi posto loro siano quindi sicuramente i nostri i nostri amici bass sono abbastanza protetti questo è il motivo per cui noi dobbiamo lasciar stare il nostro bass non dobbiamo toccarlo il maschio in protezione perché altrimenti se noi lo portiamo via molti pescetti non potranno sopravvivere abbandonare le canne per qualche periodo non è poi così male a me piace passeggiare lungo la riva guardare l'atteggiamento dei pesci si imparano veramente molte cose inoltre in questo periodo di frega in cui abbiamo il pesce e riusciamo a vedere esattamente dove sta fregando e dove ha fatto il nostro nido la cosa interessante è che nel post frega noi sapremo che lui bene o male sarà in quei paraggi lì quindi farsi un giro durante il periodo di frega non è così tragico anzi si può imparare tanto anche senza canna in mano per capire un po' questi bass come si comporteranno nel post frega il colore dell'acqua può sicuramente influenzare la nostra vista e la nostra capacità di capire se il bass è in frega o no non è facile in acqua turba da capirlo però comunque ricordatevi che i piccoli pescetti in particolare nella giornata in cui ci sono condizioni di zero vento come può essere quella di oggi ecco che riusciamo comunque a scorgere i piccoli bassi in superficie il riflesso lo fa vedere molto bene e ovviamente un buon paio di occhiali polarizzanti ci vanno ad aiutare in questo processo molto importante ecco qua ecco qua ce l'abbiamo fatta a trovarla ce l'abbiamo fatta a trovare una delle classiche cacciate del maschio che ha finito di proteggere i piccoli e si concentra sull'alimentarsi sopra di essi capita spesso che il maschio quando ha finito di proteggere i piccoli inizia a cacciarci dentro facendo selezione naturale e anche a mangiare e a recuperare le proprie forze e le proprie energie qua abbiamo un altro pesce girovago che gira sotto la riva alla ricerca di che cosa non si sa quindi qua iniziamo a tornare nel ragionamento che è un bass che inizia ad essere in posizione quasi estiva gira si alimenta si sposta eccolo qua lo vedete gira si sposta si alimenta e diventa quasi in posizione estiva quindi un pesce che ha definitivamente terminato la frega detto questo già con una mezz'oretta di passeggiata ho capito un po' di cose ho capito che la frega è quasi al termine ma non completamente bisogna aspettare ancora qualche giorno magari una settimana 10 giorni per capire questi pesci cosa hanno intenzione di fare e quanto tempo ci metteranno ad aspettare che i loro piccoli siano di dimensioni giuste per poi abbandonarli l'unica cava che ho visto che potrebbe essere pescabile tra virgolette è appunto questa cioè la prima che ha iniziato a fregare dove abbiamo visto già due o tre nidi con dei pesci un pochino più grandi e senza maschio in protezione quindi qua potremmo azzardare qualche lancio per cominciare a capire un po' il pesce dove si è spostato e come si è spostato però in linea generale visto che nelle cave adiacenti c'è ancora un po' di movimento io comunque aspetterei ancora qualche giorno per aspettare che tutte le cave si stabilizzino così siamo sicuri che anche in questa i pesci abbiano completamente finito questo è un altro tipico atteggiamento da fine frega cioè un pesce posizionato sotto un albero vicino a degli erbai e all'ombra che è pronto ad attaccare le prede quindi questo è un buon segnale che probabilmente in questa cava i pesci hanno terminato la protezione bene siamo tornati al punto di partenza siamo tornati da dove ho iniziato la mia passeggiata a spasso col quinta abbiamo visto che in queste condizioni in questi laghi con temperatura dell'acqua intorno ai 20 gradi il basso ha già terminato la riproduzione in certe zone del lago e addirittura in altre zone del lago invece sta ancora proteggendo i piccoli nelle cave adiacenti anche qua un po' sì e un po' no quindi è molto importante che voi prima di andare a pesca dopo il periodo riproduttivo controllate in ogni posto in cui andate le condizioni del lago le condizioni dei vostri fiumi anche perché basta che produce anche nei fiumi controllate bene qual è il loro atteggiamento capendo alla perfezione del loro atteggiamento sicuramente farete meno danni e sarete molto più tranquilli durante la vostra azione di pesca quindi qua dove sono io oggi siamo verso la fine della frega ma dove siete voi io non lo so nei posti grandi in particolari non lo so andate a controllare e scrivete nei commenti come siete come sempre vi aspetto sui social ogni giorno Instagram, Twitter, Facebook eccetera o mai sapete tutti dove trovarmi in descrizione ci sono tutti i link ci vediamo presto adesso siamo a spasso col quinta poi presto saremo a bass col quinta ma come sempre in bocca al bass ciao a tutti i nostri spettatori ciao a tutti i nostri spettatori